Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo momento giocchiamo a Fultonite, bene, allora iniziamo subito, allora siamo in una mappa, e passiamo quasi davanti, sto vagrando un pochino, no perfetto, dovrei passare a seguire il mio amico, ma non è il caso, ma io vado per la mia storia, io vado a scendere esattamente un po' Sì, più o meno sì, quindi nessuno è andato qua con me, credo, forse, però secondo me non c'è avuto nessuno, qua è la mia zona preferita Vediamo cosa c'è a solito, la solita cesta e le solite ceste, perché non sono una profusione, una sola, allora io prima andrei alla cesta, vedi? Il mio compagno cosa fa? Pirla, è andato subito lì, lì è andato subito, che è molto bello Uno schifo però, va, che schifo, un'italietta silenziata, vabbè qua c'è un fucile tattico pesante, che è molto bello Succo sul progetto, vai, vedi subito, fa 25 di vita, credo sì, insomma 25, adesso dobbiamo prendere l'altra roba che c'è vicino, ho visto che è molto interessante, non pensate alla canzone, perché la canzone lì Perfetto, e qua abbiamo un pompa, che è molto buono, una mitralietta silenziata, ancora però questa è rara Un'altra mitralietta silenziata, dei proiettili che mi prendo perché sono interessanti e anche utili E adesso con tutto questo ligno, tecnicamente, io posso andare sotto, credo, forse, sì, perfetto Raccogliamo i proiettili, raccogliamo i proiettili e qua c'è un casino, perché se non riesco a fare una cesta, mi sa che rompo tutto Proiettili Prisciate Perfetto 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 Un po'nutpia Sono.. Ganett seem Hit e perchè non vedo visto oggi sono fortunatissimo perchè amici amici preferire un amico però vediamo subito lo scuro che è molto importante che farebbe 50 di scudo 75 buonissime cerchiamo ancora un po di di armi in giro secondo me ci sono infatti c'è un succo no nooo peccato e non posso usarlo e vabbè e vabbè e vabbè pietra pompa munizione ah aspetta cosa vi dico io ve lo riprendo al posto di questa comune che mi serve potrebbe servirmi non si sa mai e lì cosa c'è spazzatura si praticamente si però c'è un fucile d'assalto che scambio volentieri con questo mi serve mi vado a cucinare per questo che è l'assalto sono anche nella zona fortuna siamo in 49 raga e il parco falcifico è pericoloso quindi andiamo dalla montagna alle maledette anche questo porta sfida vediamo la parola bene non può vabbè sentiamo nella zona c'è una terrestre per in quanto io ho tre scudi un un assalto potrebbe lavorare allora ho uno scudo tre scudi un assalto un pompa una incredita silenziata e un fucile spesante tattico quindi ammesso la quale della terpesta si sta restringendo ah perchè su un giorno una tempesta beh c nel caso c non mi ricordo mai qua adesso c'era l'amo no l'alto evidentemente cambia posto secondo me l'altro è bello l'alto giocatore qua c'è qualcosa non so sapete che io vi faccio la mia fortezza e i vongoli vai ah mi viene c no c e ecco la la voce al senso questo tra la voce cosa un botone ma perché un po' tutto sposto c con un po di legno che sono a posto ora devo togliere perché si mette una scena un po' da me ma 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 40 se non 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 stavolta un po st non ci sono il s tante per me per me io ok non ci vanno ok 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 Grazie. No, sono scemo. Ma sono scemo. A me fanno tutto il percorso. E' un buon giorno. E' un buon giorno. E' un buon giorno. E' un buon giorno. sono stata un sacco un'azienda di scateteta fuori scusa con l'uomo si andrì ok ok dai zio, dai 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 zio, dai 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 sai, mi sto a portare a ata, mi sto a portare vabbè eravamo in 24 sono arrivato ad 14 con la squadra quindi ragazzi questo era fortnite se il video vi ha piaciuto mettete un pollice non su quello che vi farò veramente molto piacere e mi ha fatto a vedere la nostra se non riesco a fare altri video insieme a questo video con Gesù e iscrivetevi al canale e ciao ciao ciao